Buongiorno a tutti, cercheremo di essere sintetici per arrivare appunto questa mattina. Siamo qui per presentare un evento molto importante, almeno per me di cittadinanza attiva, ma per l'accompagnolo di persone che vedete a questo tavolo, che è la prima conferenza delle organizzazioni civiche per la salute. È la prima volta che, grazie anche al sostegno della provincia autonoma e dell'azienda con i servizi sanitari di Trento, proviamo a fare un evento importante intorno alle malattie croniche e rare, o meglio i cittadini attenti da patologie croniche e rare. È la prima volta che facciamo il evento del genere, non la prima, che presentiamo il nostro punto di vista su questi temi, poiché quest'anno il rapporto, che sarà uno degli assi importanti della conferenza di Valdegarda, giunge alla sua decima edizione. Quindi contiamo su un buon numero di dati e ci siamo anche resi conto che effettivamente ha, rappresenta un proprio punto di vista autonomo rispetto al mondo dell'informazione sulle politiche della prolicità e che ha un importante valore anche come guida per le scelte di politiche sanitarie sia a livello regionale che nazionale. Questo è il nostro spicio principale, c'è la possibilità che da questa conferenza si apra una breve interlocuzione continua con tutti i soggetti pensati a modo dell'informazione e che sia possibile portare il punto di vista dei cittadini direttamente nella cabina delle strategie sanitarie. Cercherò anche appunto di non dilungarmi oltre. Passo subito la parola al Vice Secretario Generale di Cittadinanza Attiva, Annalisa Notolini. Grazie. A nome di Cittadinanza Attiva voglio ringraziare sia i partecipanti sia i redatori di questa conferenza stampa che vuole presentare questi due eventi, la conferenza nazionale delle organizzazioni civiche per la salute e il decimo rapporto nazionale sulle politiche della comunità, che sono due eventi fortemente interrelati, che già hanno diciamo un'importanza in sé per una realizzazione come la nostra, essere arrivati alla decima edizione di un rapporto sulle politiche della comunità è già una cosa fondamentale. Averlo fatto con il contributo delle associazioni che compongono il coordinamento nazionale delle associazioni dei malati cronici è un'esperienza unica, credo, in Italia. Ma questi due eventi assumono una rilevanza particolare per il fatto che questo è il 2011. E il 2011 è stato programmato dall'Unione Europea l'anno europeo della Cittadinanza Attiva, delle attività volontarie che favoriscono la Cittadinanza Attiva. Questo ovviamente potete capire bene come per un'organizzazione come la nostra carica di un significato particolare anche gli eventi che facciamo. Abbiamo voluto che il logo dell'anno europeo fosse presente anche a caratterizzare questo evento. Il fatto di farlo in quest'anno ci ha interrogato profondamente sul significato che per noi ha la partecipazione civica oggi. Questi due eventi rappresentano in modo molto chiaro che cos'è la partecipazione civica per un'organizzazione come Cittadinanza Attiva. Perché il decimo rapporto sulle politiche della cronicità mette in luce chiaramente qual è l'importanza che noi attribuiamo all'informazione civica, cioè all'informazione prodotta dai cittadini e dal punto di vista dei cittadini, cioè dalla visuale particolare in cui i cittadini guardano altre cose che è una visuale ovviamente focalizzata sulla tutela dei diritti. L'informazione civica è oggettiva, mette a frutto le competenze e le conoscenze rinunciabili che un cittadino ha, poiché è il protagonista diretto, è anche il soggetto affetto da una patologia e quindi più di ogni altro è in grado di capirla e di produrre delle informazioni che la riguardano. E l'altra cosa che questo evento esplode in una maniera particolare è il significato che ha per noi la creazione di un ambiente civico. Questa conferenza infatti unisce decine di organizzazioni che si occupano di tutela del diritto alla salute e decine di organizzazioni che in particolare si occupano di malattie croniche e di malattie reali. Questa attenzione alla costruzione di un ambiente civico è per noi una priorità nel senso che da tempo pensiamo che non sia più possibile essere incisivi nella realtà come cittadinanza attiva se non siamo insieme, se non ci strutturiamo come un fronte compatto, se non facciamo tesoro delle competenze e delle capacità reciproche. Questa insistenza sul ruolo dei cittadini, sulla loro competenza e sulla loro conoscenza che un tempo probabilmente anche da parte delle istituzioni poteva essere un'opzione di scelta particolarmente virtuosa nel rapporto con la cittadinanza va considerata in questo momento storico una necessità vera e propria. Infatti questo è un momento storico caratterizzato da fenomeni molto positivi dal punto di vista della cura e l'allungamento della vita media delle persone e la possibilità di curare tante malattie croniche e rare. Ma a fronte di questi che, ripeto, sono fenomeni molto positivi, quello che le difficoltà economiche del momento rendono particolarmente rilevante è che ci potrebbe essere un contenimento, una riduzione della spesa pubblica che si potrebbe tradurre e si traduce infatti, come il rapporto sulle politiche della cronicità evidenzerà con molta chiarezza, in un impoverimento delle tutele dei diritti che i cittadini hanno, in un processo anche di marginalizzazione dei malati e delle loro famiglie che ovviamente è vereterio rispetto al panorama complessivo dei diritti dei cittadini. Non si può affrontare questo fenomeno con le vecchie modalità, bisogna mettere in campo strategie nuove di azione e di coinvolgimento e la prima di queste strategie da mettere in atto è sicuramente un processo di empowerment dei cittadini che ha fidato alla crescita delle loro competenze, alla capacità di essere soggetti protagonisti della vita sociale e delle politiche pubbliche. Ma anche d'altra parte, ed è questa la cosa che in questo momento c'è, una certa difficoltà a riscontrare ancora con chiarezza, da parte delle istituzioni un atteggiamento estremamente aperto ed estremamente disponibile a questa continua relazione con i cittadini, alla necessità che esse hanno per funzionare in modo nuovo, in modo diverso, di metterne in frutto le capacità appunto di empowerment, che è un empowerment individuale. Ci sono cittadini ormai che sono in grado di prendersi in carico la propria patologia, di avere una centralità nei processi decisionali che la governano, che è un empowerment delle comunità e l'esperienza del Trentino sulle politiche della salute mentale insegna quanto è importante sia che una comunità focalizzi i propri bisogni e mette in campo le risorse che ha a disposizione, che è un empowerment organizzativo. Voglio solo fare un bellissimo riferimento per chiudere all'esperienza dell'Antico Civico, che dal 2001 cittadinanza attiva sta esportando, grazie anche al sostegno delle istituzioni, in 200 aziende sanitarie italiane e che ha già messo in campo le forze e le risorse di 3.000 cittadini. Senza questo tipo di aumentata consapevolezza dei cittadini sul loro ruolo protagonistico e senza la disponibilità delle istituzioni a cogliere queste opportunità, il modello tradizionale del welfare è ovviamente destinato allo fallimento e invece c'è una grossa possibilità di cambiamento laddove i cittadini acquistino un ruolo da protagonisti. Grazie mille, avete sentito appunto il riferimento che abbiamo fatto ai progetti relativi alla salute mentale nel Trentino, che sono un fiorocchiello, guardo anche il direttore generale dell'azienda sanitaria, non solo per il territorio ma anche per noi abbiamo premiato questa esperienza quest'anno come una delle migliori unità, per il coinvolgimento diretto delle persone nella gestione delle patologie e non solo. E' uno dei motivi per cui abbiamo immediatamente accettato questa proposta che ci è stata fatta dal direttore generale dell'Apss di Trento, ovviamente anche dall'assessore Ugo Rossi a cui passo la parola, proprio perché è un territorio particolarmente significativo per il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte delle politiche sanitarie. Prego, la parola al sesso. Grazie, buongiorno a tutti, io comincio naturalmente ringraziando Cittadinanza Attiva per questa opportunità che ci dà di essere al centro dell'attenzione su temi che sono davvero importanti per il nostro futuro. Il vice segretario generale parlava prima di anno l'opera del volontariato, io comincio a guardarvi solo due numeri molto semplici, la nostra è una terra piccola, siamo in 520.000 abitanti, 217 comuni, abbiamo circa 700 associazioni di volontariato iscritti all'albo e 300 associazioni di promozione sociale. Sono dei numeri molto semplici, banali se volete, che però cercano di rappresentare una realtà che rispetto alla dimensione della partecipazione dei cittadini alla vita in generale, non solo quella pubblica, è stata fortunata sotto questo profilo. E naturalmente noi, questo fa parte un pochino anche dei caratteri così costitutivi della nostra autonomia speciale di cui vogliamo, proprio il volontariato è una spila dorsale importante. E quindi siamo un territorio dove la coesione sociale e l'attenzione alla partecipazione è sempre stata molto alta. Io voglio ringraziare la cittadinanza attiva però perché in questi anni ci ha aiutato, soprattutto stimolandoci a migliorare quello che quotidianamente il nostro sistema sanitario cerca di fare al meglio, a migliorare soprattutto in un'ottica di collaborazione molto costruttiva. Non ho mai così avuto timore di utilizzare il proprio rapporto di trasparenza nei nostri confronti reciproco perché è sempre stato improntato un miglioramento. Qui con noi c'è Pietro Fabio e voglio ringraziare per questo perché penso sia davvero un elemento importante del nostro sistema. Per solambista io ho una convenzione che poi si traduce anche così in un approccio politico che noi cerchiamo di dare alla ministrazione della nostra terra che è quella che la società civile, dobbiamo dire che spesso arriva molto prima dell'amministrazione, della politica, non parliamo. Ci arriva prima perché i bisogni toccano direttamente le persone e le persone grazie a Dio si organizzano in funzione di questi bisogni. Il compito dell'amministrazione è quello di cercare di soprattutto accettare questo prima di tutto e poi cercare di lavorare assieme in una logica appunto a quale ognuno deve fare il proprio lavoro ma in una logica di collaborazione. Noi abbiamo cercato con la nostra nuova legge di riforma del nostro sistema sanitario di mettere un'ulteriore tassegno in questa direzione della partecipazione. Al di là dell'istituzione di una consulta e delle associazioni abbiamo voluto inserire all'interno dell'organo consultivo della giunta provinciale che si occupa di programmazione, cioè il piano provinciale per la salute passa da quest'organo che si chiama Consiglio Sanitario un rappresentante della scuola.